L'emergenza coronavirus ha aumentato l'utilizzo di internet, lavoro da casa, videoconferenze e social network. Tra le categorie che hanno sofferto maggiormente la quarantena e il distanziamento sociale in fase di lockdown, ci sono senza dubbio gli adolescenti, alle prese con un'età in cui il rapporto con i coetanei è fondamentale. Questa lacuna è stata colmata dai ragazzi con l'utilizzo della rete e dei videogiochi, utili per momenti di svago. Significativi in questo senso sono i dati diffusi da Telecom sull'aumento in alcune regioni addirittura raddoppiato del traffico online nelle prime due settimane di marzo, che sarebbe da ricollegare in gran parte proprio all'utilizzo del cosiddetto gaming online. Per prevenire e contrastare i fattori di rischio che generano la dipendenza da gioco e il ritiro sociale dei giovani dai 14 ai 30 anni, nel territorio dell'ambito sociale 6 opera dal 2013 un'equip formata da tre psicologi e un educatore. L'unità di strada è un servizio che è in carico all'ambito territoriale numero 6 su cui noi operiamo e da dicembre siamo in attesa del rinnovo dell'incarico perché quest'anno ci sono stati dei cambiamenti a livello burocratico per l'assegnazione dei fondi, dei finanziamenti. Siamo riusciti a proseguire grazie ad alcuni progetti che hanno rinforzato il nostro operato e ci hanno garantito continuità, come il progetto Display che è volto ad agire sul ritiro sociale e il gaming disorder. Tra i servizi dell'unità di strada, tutti gratuiti, rientrano lo sportello d'ascolto gestito dal consultorio diocesano rivolto ai genitori che hanno difficoltà nel rapporto coi figli, poi attività di confronto e gioco per ragazzi condotte da un educatore esperto affiancato da una psicologa. Inoltre laboratori di teatro e scrittura nonché tornei di gioco per stimolare i giovani a riflettere sul giusto utilizzo dei dispositivi tecnologici e a comprendere e gestire le emozioni. Uno di questi servizi è lo sportello d'ascolto per le famiglie che si trovano a dover gestire una situazione di ritiro sociale dei propri figli che generalmente ci si rende conto quando iniziano le prime assenze a scuola, quando i ragazzi preferiscono non frequentare più gli sport, si chiudono spesso nelle loro camere davanti ai videogame. I genitori sono i primi ad accorgersi del fatto che questi ragazzi stanno andando incontro a questo disagio. Siamo in rete anche con i servizi sociali e con le scuole, anche le scuole stesse sono degli ottimi collaboratori per segnalarci queste situazioni e con i quali andiamo poi a strutturare le attività sia all'interno delle scuole che nell'extrascolastico, come i laboratori che stiamo portando avanti con il progetto Display, che sono Play in the Rocca, un laboratorio che era iniziato proprio qui alla Rocca prima del Covid, dove con i ragazzi ci incontravamo per sensibilizzarli a un uso sano dei videogiochi, per aggregarci, farli mettere in rete e farli conoscere tra di loro. A causa dell'emergenza sanitaria le attività avviate dall'unità di strada erano state sospese a marzo per poi ripartire in via telematica dal mese successivo. In effetti il ritiro sociale è quello che portava i ragazzi a rinchiudersi in casa ed era considerato un comportamento anomalo, in quest'ultimo periodo in realtà è stato normalizzato, diciamo molti ragazzi sono stati costretti a rapportarsi tra loro solamente tramite la tecnologia e questo è stato funzionale e addirittura lo abbiamo utilizzato anche noi questa modalità qui. Dovremo vedere nei prossimi mesi che cosa succederà nei ragazzi, se riusciranno di nuovo ad approcciarsi a un rapporto di persona tra di loro oppure se alcuni che già erano in difficoltà continueranno a rimanere rinchiusi nelle loro camere utilizzando la tecnologia, quindi ci aspetta un lavoro importante nei prossimi mesi.